Passata quasi una settimana dalla bufera siberiana che ha messo in ginocchio l'Abruzzo, sono ancora 33.000 gli abruzzesi le cui utenze, usando il gergo tecnico dell'Enel, sono disalimentate, vale a dire senza energia elettrica e quindi fondamentalmente senza la possibilità di far funzionare gli impianti di riscaldamento domestico e non solo per le persone malate e gravemente disabili, significa nessuna possibilità di alimentare eventuali macchinari sanitari se non collegandoli ai generatori. Il dato è stato diffuso dal presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e fa riferimento all'ultimo bollettino emesso da e-distribuzione, la società di Enel che gestisce la rete elettrica nazionale. Un'emergenza nell'emergenza, quella dell'elettricità, che passata la fase dei soccorsi dovrà essere oggetto di profonda riflessione e soprattutto di chiarimenti. Da nord a sud in regione interi paesi sono finiti al buio e al gelo, ripiombati improvvisamente in un inverno medievale. Qualche giorno fa Enel, in una conferenza stampa a Pescara, aveva detto di aver fatto tutto il possibile e di aver investito oltre 200 milioni di euro nell'ammodernamento della rete elettrica, soldi che evidentemente, visti i risultati, o non sono stati sufficienti oppure non sono stati spesi bene. Vero è che la portata dell'ondata di maltempo è stata eccezionale, ma è anche vero che era stata ampiamente prevista. Molti sindaci hanno denunciato poi la carenza di informazioni e la difficoltà di comunicazione con Enel, che dal canto suo ha detto di aver messo in campo tutte le procedure previste per il caso. Le scuse agli abruzzesi comunque sono arrivate, ma certamente non saranno sufficienti a placare la rabbia di chi con anziani e bambini in casa è rimasto in blackout elettrico per giorni e di tutti quelli per i quali il blackout continua. Non basteranno neppure i 300 euro di tetto massimo dei rimborsi previsti dalla legge per ciascun utente privato, né la cifra più cospicua che spetterà alle aziende che in questa settimana non hanno avuto la possibilità di lavorare anche in zone risparmiate dalla furia degli elementi. Ad ogni modo Feder Consumatori Abruzzo ha fatto sapere di essere a disposizione per illustrare i criteri di rimborso ai cittadini abruzzesi, rimborsi che sono automatici e conseguenti all'accertamento delle ore di disservizio. Mentre per gli sbalzi di corrente che abbiano causato danni ad elettrodomestici ed utilizzatori di corrente, gli stessi devono essere documentati e corredati da opportuna istanza. Anologo discorso vale, scrive sempre Feder Consumatori, per coloro che hanno subito danni dalla mancata erogazione di energia elettrica.